L'inaugurazione degli interquartieri può ancora aspettare, ma nel frattempo alcune sue parti vengono già utilizzate nella viabilità quotidiana, come la rotatoria della trave e quella di via Fanella. Proprio quest'ultima, inserita in un contesto urbanistico che non ne prevedeva la sua creazione, risulta essere un po' affogata tra le case, il muro di cinta dell'oratorio e le abitazioni dalla parte opposta che ne lambiscono il tracciato. Certo, l'innesto delle due ramificazioni che vanno dalla via Flaminia e proseguono verso il Poderino sono belle larghe e commisurate con la nuova struttura, cosa invece ben diversa per via Fanella. Gli angoli di entrata e lo spazio della carreggiata, appena 4 metri e mezzo scarsi, creano una criticità non da poco. Già due macchine di media cilindrata passando contemporaneamente si sfiorano, in presenza poi di un mezzo più grande, come mostrano le nostre immagini, si creano i presupposti per un possibile incidente, cosa che è già accaduta al nostro assegnalatore che abita nei paraggi. Purtroppo qui facendo la strada nuova hanno fatto un marciapiede troppo grande, costringendo chi arriva e chi viene su a fermarsi perché vanno a incocciare, soprattutto se poi passa un camioncino, cosa che a me è capitata, ho dovuto bloccare anche se arrivavo per fortuna ai 30-40, quindi la rotatoria non è che si fa forte, però il camioncino che grazie a questo cartello che abbiamo dietro le spalle, questo affare rosso, lui è costretto a stare un po' centrale, io vengo da di là, ho lo spigolo del muro, ci incocciamo al centro. In tre minuti che siamo qui effettivamente diverse automobili si sono dovute fermare quasi per evitare di venire in collisione, come vedete in questo momento le macchine sono costrette ad arrivare quasi al centro della careggiata e passare tra lo spigolo del muro e questo cartello che sinceramente obbliga le persone, come sta arrivando anche la macchina in questo momento, quasi ad occupare completamente la careggiata. Due camion, io ero dietro uno dei due, un camion ha dovuto, cioè si sono dovuti completamente fermare tutti e due e fare una piccola manovra per poi, premetto, uno dei due era piuttosto grosso, l'altro uno con i camioncini che si trasportano, non so da quante quintali, comunque Come quello che sta arrivando adesso? Come quello che sta arrivando adesso, ecco qui, come vedete, come vedete, la macchina, i camioncini si devono fermare, quindi mi sembra una cosa piuttosto anomala insomma. Il palo e la protezione da una parte e lo spigolo vivo del muro di cinta dall'altra impongono agli autoveicoli di allargarsi nella careggiata, cosa pericolosissima. Cosa leggermente diversa dalla parte opposta, ma qui già in casi estremi si può passare sopra il cordolo come mostrano le tracce del pneumatico, ma anche qui, tra zuppa e pambagnato, la differenza è poca cosa.